Il notiziario di oggi ci porta subito a Pettorano sul Gizio dove è ancora da risolvere il giallo che riguarda la morte del 56enne moratore di origini kossovare che è stato trovato senza vita nella sua abitazione. I familiari sono già stati interrogati e rilasciati, si attende qualche notizia in più dal risultato dell'autopsia per cercare di capire le dinamiche di quanto accaduto e cosa abbia portato alla morte del 56enne mentre si fa strada un'ipotesi che parlerebbe in qualche modo di gesto autolesionistico ma per tutto questo, per approfondire le notizie, abbiamo con noi in collegamento in diretta Gigliola Edmondo proprio da Pettorano sul Gizio. Gigliola, in sintesi quello che un po' è accaduto ma raccontaci tu ulteriori particolari soprattutto se ci sono state novità emerse in mattinata. Buon pomeriggio Anna, come dicevi tu con Andrea Berardinelli siamo a Pettorano sul Gizio dove è giallo sulla morte di Adem Berisha, il 56enne di origine kossovara ma che viveva nel paese della provincia dell'Aquila da circa 30 anni che è stato trovato senza vita nella notte tra il 20 e il 21 ottobre nella sua camera da letto con un cavetto per la ricarica del telefonino stretto al collo. Noi ci troviamo, alle nostre spalle vedete proprio l'abitazione nella quale è avvenuta la tragedia in via Vittorio Monaco al Civico 2 dove l'uomo si era trasferito da poco tempo insieme al figlio, alla nuora e al nipotino che erano arrivati in Italia da circa due anni e vivevano con lui. Come dicevi si indaga per omicidio ma non si esclude neppure che l'uomo possa essersi tolto la vita. A chiarire le cause del decesso sarà l'autopsia che sarà eseguita nella giornata di domani dal medico legale Ildo Polidoro che ha già effettuato una ispezione cadaverica dalla quale è emerso che Berisha sarebbe morto per soffocamento. Il cadavere è stato trovato dal figlio che ha prestato anche i primi soccorsi. La procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta che è coordinata dal sostituto procuratore Edoardo Mariotti. Non ci sono al momento, almeno non ci sarebbero persone iscritte nel registro degli indagati. Sul posto erano intervenuti oltre al personale del 118 i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro insieme al nucleo investigativo dell'Aquila tutti coordinati dal capitano Fabio Castagna e dal maggiore Edoardo Comandè. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale mentre l'abitazione di via Vittorio Monaco è sotto sequestro insieme ad alcuni elementi che sono stati trovati nella camera da letto tra cui il cavetto per la ricarica del telefono che avrebbe provocato la morte per strangolamento. Qui in paese sia i vicini di casa che altre persone che abbiamo incontrato ci parlano di una famiglia tranquilla che non aveva mai avuto screzzi, litigi. Siamo riusciti a sentire, ad avvicinare al nostro microfono il signor Concezio. Abbiamo già inviato il contributo filmato e se può la regia coordinata da Dino D'Angelo può mandarlo in onda. Il signor Concezio abita a pochi metri dall'abitazione in cui è morto Adam Berisha che tutti qui in paese chiamavano Adamo. Viveva da poco tempo questa famiglia vicino alla sua abitazione. Innanzitutto com'era, chi era Adam Berisha? Era un uomo veramente d'oro, un grande lavoratore, non disturbava nessuno, lavorava e basta, lavorava, lui lavorava e casa faceva. Lei quando l'ha visto l'ultima volta? Sabato scorso l'ho vista sul tetto, lui e il figlio, stavano riparando qualche cosa che non andava sul tetto e le stavano riparando. Il figlio lavorava insieme a lui? Anche il figlio è un muratore? Sì, sì, pure i figli muratori, sì. Tutte e due sono muratori, abbastanza rilevato. Era una famiglia tranquilla, non ha mai sentito delle discussioni? Mai, mai. Una famiglia che non sentiva dove abitavano. Erano proprio d'oro, ragazzi. Lei pensa che possa essere stato ucciso oppure che si sia tolto la vita? La chiesa non lo so, guarda, non è che posso dire, se cosa non lo so. So che era abbastanza un uomo bravo, un grande lavoratore, ma queste cose non ho mai avuto problemi. La moglie vive ancora nel suo paese d'origine? Sì, sì, la moglie vive sempre là. Io l'ho visto qua sempre a Pettorani, sarei 21 anni, anche di più, sempre da solo. Raccontava della sua vita passata, del suo paese d'origine? No, 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 no. Si salutavamo, buongiorno e buonasera, ma senza nessuna... Come è stata accolta questa notizia, ha suscitato clamore? Quali sono i commenti che lei ha sentito qui in paese? È un piccolo paese, ma li conoscete tutti praticamente. Si conosceva tutto, ma io come tornavo da Sulmona e vede l'apologia qua, cosa c'è? Boh, che è successo? Quindi non era un tipo che, come ti devo dire, disturbava cose. Un bravissimo ragazzo, guarda. Bravo, bravo. Quindi, Gigliola, ci pare di capire grande sgomento nella comunità di Pettorano sul Gizio, del resto anche lo stesso sindaco ha parlato appunto di giorni di lutto per l'intera comunità. Adesso si attendono ovviamente risultati dell'autopsia per cercare di risolvere un po' questo giallo. Sì, Anna, noi abbiamo contattato telefonicamente il sindaco Antonio Carrara, che però questa mattina era impossibilitato a rilasciare, a concederci una intervista, così come ad essere qui accanto a noi per una intervista, quindi per intervenire in diretta con il Tg8. Sì, sarà fondamentale l'esito dell'autopsia che, come ti dicevo, sarà eseguita nella giornata di domani dal medico legale Ildo Polidoro. Al momento la Salma si trova all'obitorio dell'ospedale e intanto la famiglia di Adem Beriscia, quindi il figlio, la nuora, con il loro bambino, la donna tra l'altro, come avete sentito anche dalla dichiarazione del vicino di casa, è in stato interessante, quindi dovrebbe partorire a giorni, dovranno tenersi a disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati ascoltati e però hanno riferito quello che ci hanno detto anche qui in paese, cioè che non ci sono mai stati motivi di screzio né motivi per i quali potrebbe essersi tolto la vita Adem Beriscia, ma almeno da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri non ci sarebbero neanche segni di effrazione o comunque elementi tali da far ritenere che in questa abitazione, che alle nostre spalle, possa essere entrato qualcuno nella notte tra il 20 e il 21. Ne sapremo nelle prossime ore, entro domani, nel prossimo weekend, dovrebbero avere ulteriori elementi per conoscere, per sapere e cercare di chiarire questo giallo.